Abbiamo fatto ciò che il mister ci chiedeva, di stare compatti e poi ripatirli in contropiede e fargli male, perché noi siamo forti, noi siamo questi, non siamo quelli dell'Inter e oggi per fortuna abbiamo portato a casa i tre punti. Una grande contropiede che hai iniziato tu e che ti ha portato anche a questo primo gol in campionato che stavi cercando? Sì, sono molto contento al di là del gol perché abbiamo portato a casa tre punti fondamentali contro una diretta concorrente per il quarto posto e niente, ora dobbiamo solo che continuare così. C'è una dedica speciale? Dedico questo gol al mio amico Alessandro e alla sua famiglia che oggi dovrebbe essere sicuramente un giorno brutto per loro e spero che in questo gol, in questa vittoria, essendo mio caro amico, gli ha strappato un sorriso in questo sabato molto brutto per lui e per la sua famiglia.